Buongiorno a tutti, iniziamo il convegno, è un convegno direi di svolta per molti motivi, a parte che è la prima volta che piove in credo 15 anni, ma a parte questo, è l'era del dopo super bonus, quindi una svolta radicale, io ho sentito dire da qualcuno si torna alla normalità, ma forse è così, però di quale normalità parliamo? La normalità del 2019, la normalità del 2013, la normalità del 2001, non si sa cosa sia la normalità. E poi bisogna ricordarsi che la storia si ripete, no, la storia si assomiglia, non si ripete, non si ripete mai uguale. I motivi di riflessione su cui discuteremo oggi sono tanti, sono tanti. C'è un processo di aggregazione, ci sono situazioni di mercato completamente differenti, ci sono nuove tecnologie, nuove attitudini d'acquisto anche. Quindi facciamola breve, andiamo avanti, le cose da dire sono molte, un dettaglio tecnico, poi avremo un ospite straniero che parlerà. Chi non si è procurato le cuffiette per la traduzione potrà inquadrare un QR code col cellulare e accedere alla traduzione tramite il proprio smartphone. Grazie a tutti.